Un saluto a tutti, per quanto riguarda la ticchiolatura sulle pere non è più il caso di effettuare trattamenti, direi che la difesa sulle varietà di pere è terminata per quanto riguarda la ticchiolatura, diverso invece è il discorso per quanto riguarda il melo, in quanto se si accettua il gruppo delle gala, per le quali ormai siamo in infero raccolta, su tutte le altre varietà nei campi dove la malattia è presente, soprattutto se continuerà questo andamento climatico frequentemente piovoso, sarà ancora necessario effettuare qualche copertura. I prodotti da impiegare sono il solito captano, tenendo presente però che il disciplinario di produzione integrata ci limita a 5 il numero di interventi all'anno, l'alternativa può essere la poltiglia dispersa. Per quanto riguarda invece l'altra malattia fungina e mi riferisco a maculatura bruna delle pere, veniamo da un mese dove abbastanza frequentemente abbiamo avuto un rischio alto e anche un volo alto di conidi, di contro però dai monitoraggi fatti in campo vediamo una situazione molto buona con una presenza irrisoglia di frutti danneggiati, questo probabilmente perché non essendoci stati infezioni gravi alla fine della primavera siamo arrivati piuttosto puliti a questo periodo rischioso e forse anche perché il frutto in questa fase precedente alla raccolta ha una sensibilità un po' inferiore. Con questo però non bisogna abbassare troppo la guardia e se continuerà questo periodo di piogge frequenti qualche copertura ancora andrà fatta. Naturalmente non si possono più impiegare i prodotti che frequentemente abbiamo impiegato in passato come TMTD e Captano sia per le limitazioni dovute al disciplinare di produzione che all'etichetta dei prodotti sia per il tempo di carenfa che non ne permette più l'impiego. I prodotti che possiamo impiegare di qui alla raccolta sono fondamentalmente due, cioè il Boscalid che troviamo con nome commerciale Cantus o Bellis che a sette giorni di carenfa può essere impiegato al massimo tre volte durante l'anno e l'altro è il Fludioxonil che troviamo come Geoxe che a tre giorni di carenfa può essere impiegato al massimo due volte durante l'anno. In fasi di basso rischio può andare bene anche Poltiglia Bordolese che ha sette giorni di carenfa. Ora passiamo a parlare di insetti delle pomacee. Da un paio di settimane non vedete Cleglia con il suo modello previsionale Carpocapsa perché ora il modello ha perso un po' della sua importanza in quanto oramai siamo in un periodo in cui abbiamo sovrapposizioni tra una generazione e l'altra. Probabilmente ora siamo alla fine della seconda generazione ma ci può essere già qualche larva di inifio di terf generazione. Ecco quindi che non c'è più un periodo nel quale non nascono larvae. Potenzialmente da qui alla raccolta c'è sempre la possibilità di nascita. Con questo non vuol dire che in tutti gli impianti ci sarà nascita di larvae di Carpocapsa. Crediamo che dove siamo puliti adesso, dove non abbiamo catture, sicuramente gli interventi sono superflui. Viceversa bisognerà continuare a trattare negli impianti dove magari abbiamo notato qualche frutto cidiato dalle precedenti generazioni o dove notiamo qualche baccato fresco o dove le catture superano la soglia di due adulti per settimana per trappola. Ecco che qui andremo a intervenire con prodotti come lo Spinosad che possiamo impiegare tre volte durante l'anno al massimo e troviamo come prodotti commerciali Lasers, Pintor o Sacces e a sette giorni di Carenf. Oppure possiamo impiegare l'emamectina, cioè la firma che possiamo impiegare al massimo due volte durante l'anno e ha sempre sette giorni di Carenf. Tengo molto a dirvi i giorni di Carenf perché facciamo attenzione, quest'anno c'è un forte anticipo nelle raccolte, anche di due settimane rispetto al passato e quindi le revende non devono trovarsi spiaffrate ma calcolare bene quello che sarà l'inifio delle raccolte delle varie varietà. L'altro insetto che se da un lato le piogge hanno favorito le malattie fungine, questo è stato invece ostacolato dalle piogge e la psilla. Fino adesso dei grossi problemi non ce ne sono stati, però manca ancora quasi un mese alla raccolta di abate e quindi non bisogna abbassare la tenfeone, continuare a fare monitoraggio. In caso di presenza di melata qui non dobbiamo intervenire con insetticidi ma con lavaggi o irrigafroni sopra chioma. Cambiamo specie, passiamo a parlare brevemente delle drupacee e brevemente perché oramai vi sono poche varietà sulle quali è possibile ancora effettuare intrattamenti perché siamo già nella raccolta del gruppo Star Red Roll. Comunque se ci fossero varietà tardive sicuramente adesso potrebbero esserci problemi ancora di cilia molesta e di anarsia lineatella. Qui vanno monitorate le trappole, logicamente le soglie sono, le ripetiamo da settimane, ma sono dieci catture per l'acidia molesta, sette per l'anarsia. I prodotti che si possono impiegare sono prodotti che hanno tutti sette giorni di carenfa e sono l'Etofenprox che troviamo come Trebong, le Mammectine che troviamo come Affirm, lo Spinosad, Spintor, Sacces o Laser. Stessi prodotti possono essere impiegati sull'acidia funebrana del susino. Anche qua molte varietà sono state raccolte o sono in raccolta, ad esempio su Angeleno che è una varietà che quest'anno si raccoglierà verso fine agosto, siccome siamo nella piena terf generazione della funebrana può essere il caso di effettuare qualche trattamento. La soglia delle catture della funebrana è 10 catture per trappola per settimana. Io termino il mio intervento con la rubrica, il medico delle piante, l'appuntamento per la prossima settimana.